Dal 18 al 26 agosto a D'Arezzo sarà protagonista la musica corale. A partire da giovedì 23 torna il concorso polifonico Guido D'Arezzo giunto alla sua sessantesima edizione. Quest'anno avremo complessivamente 10 giorni di attività che saranno 10 giorni di concerti con 3 concerti al giorno che comprendono non soltanto il concorso polifonico ma anche i festeggiamenti del trentennale dei Cori della Toscana in collaborazione con la Federazione Cori Toscani, l'esibizione dei giovani allievi della Scuola Superiore per Direttori di Coro e poi naturalmente il Festival Guido Neum. Oltre queste anche una mostra retrospettiva dei 60 anni di vita del polifonico. Ci saranno gli appuntamenti ovviamente classici che costituiti dal concorso polifonico internazionale, dal concorso polifonico nazionale. Ci sarà la serata dedicata al canto popolare e la serata inaugurale sarà un po' particolare questa volta, avrà per titolo Il Mistero del Requiem di Mozart. Ricordiamo anche i luoghi che faranno da palcoscenico a questa manifestazione. La Sala di Sant'Ignazio sarà il luogo cardine dove verrà svolto il concorso, le varie iniziative eccetera. La Basilica di San Francesco invece ospiterà il concerto inaugurale del 23.